Nel tuo inventario? Eh lo so, lo so, quindi conserva, conserva quella che abbiamo usato adesso. Ma sali sopra dove c'erano i proiettili, dove c'era? Apri qua, apri qua, sopra, destra, ma ma che sta dentro sto HV? Ah devo mettere la cassetta qua dentro, ma ti fa vedere di nuovo quella sequenza. Sarà diversa, no? Questo è il dottore, che è nell'appassanza. Sì, identificato. Entriamo. Adotto, dai, c'è il grosso giro. Si muova. Credevate non vi stessi aspettando? Non so, niente, assolutamente. Questo è il lavoro di una vita! Non lo avrete mai! Scordatevelo! Abbiamo degli ordini, dottor Birkin. Glielo chiederò ancora una volta. Tutta la scernita è stata in fuoco! Sì, addio, addio. Che cazzo ti è saltato in testa? Gli ordini erano di catturarlo vivo! Emo addio, non ti preoccupare, devi svegliare. Ci siamo, signore, ma c'è stato un problema. Ha opposto resistenza ed è stato abbattuto. Esatto, signore. ricevuto. Preleviamo il campione. Muoviamoci! vai nella cassa. Aspetta, vediamo un po'. Vabbè si, qua spiega tutta tarantella. Il terzo, prendi il terzo. No, inventario tuo, non il box. Il terzo. La cassetta? No. Con zebba la cassetta e con zebba però questo, non serve più. Ok, abbiamo una polvere da sparo in caso. Non so se possiamo... Non ne abbiamo più, solo una. Ok, vai nell'altra stanza. Esplora. E basta che non mi vieni a Nemesis, ancora è dietro, va presto. Emo fra poco si aspetta un altro pochettino. Non c'è nulla. la strana pitta che è. Niente, niente. La polvere da sparo. Aspetta, 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 la trasformo. La combina. C'è pure un'altra piantina da combinar. Che farlo? fucile ti da. Buoni. No, mani. No, mani, mani. E conservano allora. Ok, poi avevo detto la piantina. Ok. ecco. Ah, ti sta sterilizzando. No, prendi la mappa. Con uno dei lati che cosa c'era? e andiamo dietro, ma c'è un'altra sala da videoregistratori. Fammi vedere tutta la mappa di là. No, no. No, no. Ingrandisci dove siamo adesso, giù. Ingrandisci dove siamo adesso, giù. e c'è un'altra stanza da fare qua. Vedi? E quindi donna dritto. Ma forse perché ce l'ha chiusa prima. perché qua, se continuava, continuava a destra. Continua a destra. Eh no. Continua di qua, giù di qua. Vai. E poi è tutto verde, capisci? Mmh. 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 Mo si. Che soccai. Poi era dov'è il video del dottore, ti ricordi? Andavamo prima qua. polvere da sparo e la conserva. Spiantina. Polvere da sparo. Prima di conservarla potevo mischiarla subito. Eh beh, mi chiedo adesso. Se fanno un po'. Ma dove stai? Pistola. Fucile, buono, però deve conservarla. No, fucile ce l'ho, ma lo porto. La piantina? Però conservala piantina, conservala. Oh, fermate. Sì. Una salvatina. Una salvatina. Un giretto qua, veloce. Hai già fatto qua? Eh, mi piace rifallo. Qua è dove hanno ucciso il dottore. Ma è dove hanno ucciso il dottore? L'hanno fatto a pezzetti? No, no. E' Bills. Si pare. Ok, posso tornare da Ada. Meccia. Tornare da Ada. Ma parola. Non parola. E mo? Fuori. ... ... ... ... ... verrà avviata la sequenza di armi distruzione attenzione ecco fatto il dottore mo forte vedo metter fucile sta trasformata abbralloccio la deve via a lei perché non ucciderei meno male mio marito per la volta e dai che diavolo succede l'acqua santa che mi hai dato altre scelte e sparano lanciafiamme con il fucile e non ammazzo questa dell'acqua santa ammazzo ah ah questo era l'acqua ah è impossibile lo hai chiamato William perché? perché è finita così? è soltanto colpa della ombrella beh certo sei una di loro è leggerla qua sì ma tutto questo non sarebbe dovuto accadere allora raccontami fin dall'inizio mi aspettavo un altro po'? dove si spara? il dottore quando si spara ah ok ecco qua ma dovete fare un'ampidiatra dei rifatti tua mio dio William che cosa hai fatto? ma vai questo hai fatto il vaccino tu hai creato questo mostro? abbiamo creato il virus ma non immaginavo non trovare scuse in un sei com'è è risvegliato vabbè vabbè dopo pure portavia non è un problema per lui ma che cazzo sono ma che diamo? no si spara con quella pistola d'acqua no che cosa fai? non possiamo farlo scappare bella ok finiamola che gli faccio ma? all'occhio ma che all'occhio scusa boh aspetta eh aspetta che do ciao 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 mare dai io e zio porcorto e letto e gli tiravo c'è una bomba io però che vuoi fare concerto? ma che sta a fare? porca sui denti ma no me lo cura me un altro po' ti ha mandato no sono morto vabbè li famo dai mi sono fatto prendere un po' vabbè vado a nato la pina un pacchetto di sigaretta vai vai rilevata donazione di livello 8 vabbè 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 devi sparare all'occhio ma l'unico spara all'occhio ottimo vedi che deve essere una scala non c'è staccoglio vedi che deve essere una scala come se tu si giri come fai a vedere questa scala ma non ce va ma fate via una cosa è via che faccio che fa qua dall'altra parte sì era etcetera guarda per l'oltre via via dai muoviti ma perché ci sono è incazzato mi sto mangiando tutto ma perché ti fai spinguare la tua cerca ti sto dicendo la scappa no piglia tutta sta roba fai mi giro di va fai mi giro di va fai dove vai aspetta fammi far giro completo braio quanti cavolo me ne sta da questi cosi che c'è fai questi questi di colpetti quanti me ne sta da questi corti no no levati vai a destra vai a destra mario ti sembra facile ma io lo uccido a lui fa la fine eh si taccio è rimasto poco ma è mai dritto 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 prima zoppo via da bomba verde c'ha ragione sì c'ho solo la pistola a fine perché la magnum ce l'ho e lancia fiamme vabbè ci fa me fai poco e niente dai vatti a pigliare quello che c'è ma vicino a sta cosa verde e pigliare la pistola eh questo è il contenitore di lancia fiamme piglia su lancia fiamme dai piglia lancia fiamme è morto è morto ma è morto attenzione si vai in bordo la in bordo dritto in bordo dritto c'è l'ascensore ma fammi mi ha lasciato qualche cosa no non c'è sta più niente sicuro metti che c'è qualcosa lo posso riparare allora finestra l'ascensore di servizio è ora in funzione attenzione rilevata l'inzione non autorizzata di un viso di livello 4 avvio non c'è niente no vabbè dritto mi darà dopo qualcosa che ne so eh sì tu dici che è morto spero dottoressa dov'è vostra figlia e fa un male cane fidati senti riguardo a prima non so se credi promettimi che distruggerà il campione del giro dai no è una prova ci penserà l'fbi ti fidi di quella stronza che cosa vorresti dire mi ha dato un bacetto mi ha dato scusa lei non è è una mercenaria lo vuole vendere il virus G andrà al miglior offrente no stronzale spero sia così ma se il virus finisse nelle mani sbagliate è una bella sciacquadina mi ha dato scusa che conserva bravo E' pure un caricatore di volantiafiamme, ma io mi ripieno la magnum a sto punto o no? Eh no, puoi continuare ancora così bro. Dici? Eh si, tanto i box li troviamo dappertutto. La bombetta ma la piove però. A che ti serve? Ne hai già due. No uno ce n'è, ho usato con il mostro. Di blu ne hai due. Ma è blu, ci metto pure questa guarda, tanto li metto insieme, non è che... Vado così allora eh? Eh. Senza magnum eh? Eh. Posso salvare qua? Eh, dove stai quello che è salvato? Qua non si può salvare. Per raggiungere il piano inferiore. Vabbè, ormai è passato, poi è passato. Qua c'è una nave? È sempre di sì. No, dobbiamo andare. Eccola. Eccola Ada. Eccola Ada. Eh, orella. Siamo una bella squadra. Ma ho una domanda. La via è libera. Ti prego, dimmi che ce l'hai. Oh, ma certo. Controllo se ha il campione giusto e possiamo andare. Sì, ma prima. Ho incontrato Annette. Dice che non sei dell'FBI. No, Leon. Perché non vuoi darmi il campione? Ho provato. E credevo di potermi aiutare. Mi dispiace. Speravo davvero non finisse così. Allora è vero. Ero solo una pedina per te. Faccio solo il mio lavoro. E io il mio. Abbassa quella cazzo di arma! Sei in arresto! Dammi subito il campione, Leon. O ti farai male. Che dall'amore al litigio. E dai, su. Sparami allora. Se ne sei capace. Testa però, perché sennò c'era il giacchetto antiproiettili. Chi ha sparato? Ah, signora. Ah, signora. Allora! Ehi, da! Nooo! Nooo! Ma tutto quello non è caduto. Nessuno avrà mai il campione. E ora si spara lei. Lasciala, Leon. Che te frega. Non resisti. Posso farcela. E tu? Stai a andare sotto per lei. Che da me cavolo lasciata. Lascia me. Tanto un buco vale l'altro, dai. Non me lo merito. Ma come no? Non farlo. Ciao, Leon. Eccola. Buona fortuna, Leon. Un bacetto, no? Nooo! Eh, dai, su. Era innamorato, questo Leon. Eh, tu? Se butta pure lui tanto di recepe. Basta con un bacetto se è innamorato. Dai, tu. Eh. E ancora sta qua. Ancora non se ne va, ma dai, tu. Ma lei che fa che sta bionda, pure mezza molibonda. Ma la signora ancora può essere che salva. Oh, che devo fare, Mario? E ora... No, no, dove vai? Dove vai? E dove vado? Entra. Entra dove hai aperto la porta del... No, dove vai? In questo cubo. In questo cubo. Ah, in questo cubo. Ah, in questo cubo. Ah, Mario, però se non me lo dici... In questo cubo. Che devo fare? Ah, stiamo scendendo, ok. Aspetta, ma cazzo. Ma capito? Ma c'è stato... C'è stato noi venuti per scappare da qua dentro a questo inferno. Relax. Eh. Eh, guarda qua, va. Ti pare che ora non vi è qualcosa di brutto con il Nemesis che mi vorrei dire fino all'ultimo, no? Ti pare? Ma ti devo spoilerare tutto. Ma ti devo spoilerare tutto. No, no, no. No, no, no. Tanto mi immagino, mi immagino che viene. Ma si sdoppia. Un culo. Vai, va. Ecco fatto. Ma ricordi la signorina che è andata alla copp? Eh. Eh, vedi chi, eh. Prenda. Prenda. Claire. Claire. Liam! Liam! Sei qui anche tu? No. Sì. Ma sta per trovare tutto. Senti. Devi andartene. In fretta. Lo so. C'è una via di fuga. Possiamo farcela. Sì. Soprattutto se tu stai lì senza mano. Ah, dai. C'è un poco tempo. Non ti sento. Non aspettarmi. Mettiti in salvo. Cambia l'audio. Cambia la ponte audio. Eccolo. Qua abbiamo il tempo. Che cazzo devo andare? Qua, qua. Chi è qua? Mi fa sciogare. Mi fa sciogare. L'ho fermato pure a Pia al cortello pure io. Oh. E scappa. Quando salviamo, salviamo. Ma che salviamo, io corro. Salviamo, salviamo, salviamo. 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 No, ti ho salvati o no, Mario? Sì. Sori come se non ci fosse un domani. Ma perde troppo tempo uno quel giro in giro. Inutile me! lascia stare il suo coltello dove cazzo? non si vede niente è là dietro di te la piantina dove dove va andare? scala scendi scendi corri corri più correte così è un posto no bravo tu da dove cazzo? giro giro tondo gira al mondo gira la terra e tutti giù per terra no 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 ma io sto a fare tutto a culo non lo so se faccio bene vai vai non ci si può andare vai 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 no zio bello di casa dai un bacetto e mandami mia che gli faccio a questo che gli faccio a questo? ma scendicchio ma eh beh la bottarella che voglio ma non si muore mai questo ecco devo sbrigarmi devo sbrigarmi ok vai qui dentro dove? qua qua ma per terra c'è un sacco di roba per terra per terra ancora qua tu baule conserva qualcosa nel baule ma il coltello il coltello conserva il coltello conserva il proiettile della magna mutanda non lo stiamo usando e conserva pure questa cosa che ci abbiamo preso a moda vedi cos'è prima connettore elettrico oggetto young un grosso connettore elettrico necessario per attivare qualcosa nel nest nel nest vabbè lascialo stare così i colpi dai dai no ok dai sì 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 basta abbiamo 60 vai su questo pannello e mettici ci sono il progetto vedi che serviva subito questo si la leva vada solo vada solo arriva mai dietro tuo un'altra volta che diavola ancora no no ma è modificato eh 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 sì eh sì giustamente gli serviva il passaggio chi le faccio a questo ma eeeh dove vado? forse bene se c'è qualche via d'uscita ah l'unica è scampà l'unica cosa che può fare ecco sì è possibile magari oh 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 ce l'ho o non ce l'ho? Mi sa che non ce l'ho sai? Allora togli il fucile, togli il fucile e piace tutti questi proietti di pistola e amagnum. Per forza non sta a amagnum ma siete tutti se sbroietti? Ho capito, ah dici in c'entra 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 che dici? Mi pieti del 30 amagnum, caccerai la magnum. Eh, e basta. Perchè ho preso la 300 lanciapiamma e non ci puoi nulla, conservo lo suo lanciapiamma, conservo. Ok. Allora mi porta il fucile pure, scusa, mettimi dai colpi. Se ti dai colpi. Metti che mi dà, che ne so. Vedi che abbiamo due slot liberi eh. Eh, non bastano? Eh, non lo so. Vabbè, guarda la bomba, la sparo e quella lì va così. Tanto ricarico. Metti direttamente, metti direttamente qualcosa là lì dentro ai tuoi spazi libri. Quale cosa ma? Ah, sì 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 sì. Questa va sbagliato. Nemmeno posso ritornare indietro, ma una volta fatta è fatto questo. Eh sì. Solo che senza proiettili di fucile non me l'aspettavo sta cosa. Lì, diciamo, non gli fa nulla, capito? Ravendo non gli fa nulla nessun'arma questo. O dobbiamo aspettare che scava il tempo. Sì, ho capito, ma mi ammazza nel frattempo. Sì, ho capito. Guarda quanto è brutto. Ma sono gli amici miei dopo che torna dalla palestra. Auguri. E siamo a uno. L'altra bombetta, va. Mi fai nulla. Non mi fai nulla, capito? Sei minuti alla detonazione. Non mi fai nulla. Non mi fai nulla. Non mi fai nulla, capito? Eh. Sei minuti alla detonazione. No, il massimo è un massimo a me, mi fai. Non ce l'ho una cosa di fiamme? E che ce l'hai? Mangiagli le bombe. Non ce l'ho, ma... Ah, quell'altra ce l'ho. Caproia, oh. Aspetta, eh. No, che rimuovi, oh. Ma... Questo è da solo e mette, ma di quando gli sto vicino. Ok, vai, va. Cadroia, ogni botta mi fio. E schifalo fin quando scade il tempo, dai. Corri, corri. Non mi ha preso stavolta. Perché sono tanto munizioni secondo me. E che gli faccio, eh? Come fai? Aspetta che scade il tempo che stanno cadendo i massi e blocca. Lo ricordi. Una parola. Guarda che mi ha fatto. Guarda che mi ammazzavo di più. Dura la ventura. Eh, dura sì. Mi è facile. Macello, ah. Sequenza di autodistruzione avviata. Utilizzare il... Allora, è inutile che mi è piaciuta sta roba. Cioè, non ne posso fare niente. Che... Che... Che gli faccio niente? Ne sparo? Ne faccio niente. È inutile. Non abbiamo nemmeno energie. C'è solo una piantina da mette qua. Che poi che me la piaffare. E nemmeno io lo so. una zaccagnetta me la porterei io perchè quelle sono quelle che quando stai vicino magari qualcosa può essere che può fare. ora dimmi tu. continua a fare l'amo cercate di schivarlo il più possibile. schivarlo il più possibile tanto per schivarlo ma già son mori. speri fammi vedere. no io volavo più che puoi ma stivolo ok poi vai passare il tempo che con queste armi non facciamo nulla. no zio però così vedi se ti fa curare. si che mi fa curare ma voglio aspettare che diventa rosso bravo schiva vai dietro di lui vai dietro di lui no davanti aspetta che sta lontano che mi fa il colpo mario ok 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 non stare dietro le pietre non stare dietro le pietre. invece si perchè almeno ti frena 5 minuti alla detonazione ok girate verso di lui schiva 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 è una questione. continuiamo così perfetto continuiamo così eh lo so può parte eh ma fanno via per forza io che gli faccio e quando carica così rifarlo di nuovo e quando carica così rifarlo di nuovo perché a scadere del tempo ti danno lancia razzi ma scusa ma lancia razzi mi dà non c'è per tenere nemmeno tempo a pialarmi posarle qua a fa sta roba che io sinceramente che gli faccio? vedi se hai per curarti qualcosa no che c'ho per curarmi? ho solo una piantina un po' d'erba lì e quella rossa e l'ascensore centrale per raggiungere il piano no devo cercare di farmi via il meno possibile eh bravo bravo ma mi sono curato sta volta? no perchè poi una volta è infilzato non ho fatto un tempo perchè quando osservi qua non gli fai nulla gira 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 e stai sempre con la visuale verso lì potete fermar mamma mia tu non me via mamma mia tu non me via dai dai una sciaccata malata oh oh non va bene ma si ingerza eh? ma se gli sparo mi... ho il pesce, ho qualcosa al pesce, ma non lo aggrappiamo e se io non lo faccio rompere per maschio io lo faccio rompere dopo quando viene la carica ma mi sembra una distanza oh cazzo, cazzo non mi hai curo però eh no, attento eh via ma c'è la bomba Mario ecco vedi l'ha usata per fallire lui ok ecce da spiegare la bomba cazzo di buddha via 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 ho un po' di pistola ma eccolo no 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 zio buono te ho risultato un altro po' via sa pistola la pistola corri, corri, corri corri Parti opposto, girate verso di lui bravo, parti opposto, fai la stessa cosa e fra poco dovrebbe riparare un lanciarato forse forse che cazzo è successo? lanciarato, va che mo ti mangio lanciarato? dai zio, vialo subito dove stavo? posso via al volo? vedi che è lei ciao zio aspetta, non cantare vittoria l'ho fatta a metà mo devo tenere Mario? siete arrivati al livello... eh magari scorrimo e che corro? a questi che gli dico? ma la spazio entro ma cammino di meno con il lanciarazzi però scorrimo vai sul treno ciò va da sire e se cosa è bene ma quando erano brutti quei verniciarceli ti ricordi ma? eh quelli sono i pronipoti quelli sono i pronipoti quelli sono i pronipoti sono i cuccioletti quelli che hai visto eh eh ho del presente il padre ecco fatto sigaretta da tu incredibile era nada che ti ha mandato il lanciarazzi ma lo votava pure prima no? eh ecco Leon e chi è sta bimba? è fatta è fatta te l'avevo detta no? abbiamo finito abbiamo finito capito ma c'è ancora la parte di Claire signori abbiamo finito il primo capitolo ecco fatto finalmente ci siamo riusciti a completare questo fantastico gioco ragazzi salverò appunto le live sul canale le potete rivedere quando volete quindi per questa live è tutto ragazzi io vi saluto grazie per aver visto la live ringrazio il mio collaboratore che mi sta seguendo in questa fantastica avventura Mario comunque non abbiamo finito perché ancora c'è il finale dobbiamo guardare il finale adesso aspettiamo un attimo che finisce con i titoli di coda così vediamo appunto il finale insieme perché questo gioco merita veramente di essere vissuto fino alla fine il migliore in assoluto forse uno dei migliori della serie resident evil veramente un gioco fantastico ma dopo di questo gioco cosa portiamo sul canale? vediamo io ho pensato di portare resident evil 4 remake ottimo direi ottimo direi che a livello di qualità grafica e comunque anche come esperienza penso sia un ottimo tipo si molto più avanzato di questo però comunque è un gioco che mi va di portare stupendo quello è stupendo stupendo quello è stupendo ma Mario ti dici di finire fino alla fine ci sono dei finali da guardare ma non ti fa schippare qua non ti fa schippare non lo so devo vedere salta 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 hai visto? si come se c'è stato quello è il padre dei vermoni allora salvatazione B salvataggio 33 tempo 9 ore 15 minuti e 55 ok vabbè comunque è stata una bellissima esperienza dai stupendo stupendo ci siamo divertiti ok ok quindi il gioco è completato ora rimarrebbe da fare la parte con la donna ragazzi una parte di Claire si praticamente iniziando il gioco con la donna avremo di nuovo altri livelli altre avventure insomma basate sempre sulla serie residenti ovviamente ci sarà anche un altro finale però magari per adesso ci fermiamo qui con questa serie e poi vedremo in seguito cosa fare e fa tempo ragazzi io vi saluto vi ringrazio ringrazio di nuovo il mio collaboratore Mario e ci vediamo grazie a te bro e auguro una buona serata a tutti quanti e una buona visione vi saluto alla prossima quindi ragazzi ci vediamo sempre sul nostro canale buar pc ita vi saluto che ringrazio alla prossima ciao ragazzi grazie